Dopo i due anni di stop forzato a causa del Covid, la Sagra del Pesce e la sua 83esima edizione, secondo il sindaco Mauro Armelao, è stato un successo annunciato, confermato dalle manifestazioni di consenso dagli stessi cittadini giunti in Sagra, e afferma un grazie a tutti gli stand che hanno reso grande chioggia, questa è stata pura promozione del territorio e della nostra città, nonché della nostra pesca, continuando dicendo di aver già trovato correttivi da portare alla prossima edizione, in un'ottica di miglioramento del servizio offerto per la clientela, come autorizzare tavoli alti per le ciccheterie, in modo che gli astanti abbiano un posto dove appoggiarsi mentre assaggiano le prelibatezze e aumentare il numero di tavoli per stand. Ringrazio al sindaco La Croce Verde per aver garantito l'assistenza sanitaria in forma gratuita, ai volontari di ADA per l'aiuto nella gestione delle serate, e ringrazio inoltre chi ha collaborato per il buon esito della manifestazione, dalla BCC Patavina, da Rena Artis, a Radio Claudia e a Radio BCS. Ora si attende il verdetto che decreterà i quattro migliori stand, quelli che il prossimo anno avranno la possibilità di accedere di diritto e di poter scegliere la location. Un unico ramarico è quello che molti negozi del centro storico non abbiano approfittato delle serate lunghe per tenere aperto fino a tardi. Sarebbe stato un bel vedere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.